Vediamo qua, pelle fa crack, pelle fa knock, non butta il bunker non so perché E' un bel gioco 3 1 fatto Bravi bravi Qua l'hanno recuperato Però posso dire la mia Allora qui non hanno giocato assieme E non hanno usato le loro risorse Cosa ha Kibi? C'è un termite Che poi vabbè c'era il trophy lì C'è un trophy che si può buttare no? Vabbè l'antibunker l'avevo usato non per pushare la casa L'antibunker l'avevo usato per salvarsi Capito? Che ha fatto bene Prendiamo quella position Allora Onestamente poi recuperando il fight hanno fatto bene E è andata un po' di culo Perché quelli hanno giocato Sembravano dei bot Cioè l'ha passato di fianco, ha smirato full Però vabbè non contando come hanno giocato gli avversari Ma qui che sono tutti quasi crackati Comunque bisogna giocare assieme Se Kibitz va fuori Fighta con uno E dici che è weak In questo momento Da come lo vedo io il gioco In questo momento Pelle lo dovevo aiutare Perché? Perché Pelle qua C'è piastrata C'ha tre piastre Vedi? Kibitz sta dicendo ora da me Sta fightando Sta perdendo vita Sta facendo cose E qui bisogna aiutarlo Cioè qua Kibitz lo aiuti O butti l'antibunker dentro la casa Poi vai a fightarlo O ti butti la smoke Poi vai verso Kibitz O butti un C4 qui nella finestra O qui verso di Kibitz O lo aiuti Se il tuo teammate dice weak da me Uno Vuol dire che è crackato E c'ha poca vita Non lo caga qua Guardi? E poi un altro problema Di questo team Che vedo E che collano in tre Intercensual Invece di andare A aiutare Kibitz Che stava fightando con uno Hanno ignorato completamente Kibitz qua Cioè onestamente Hanno ignorato completamente La call Sì ha sbagliato Andare fuori Kibitz Però era crackato Dal C4 Che hanno buttato Verso la porta Quindi cioè Era anche Senza Senza smoke Quindi non si poteva piastrare Kibitz aveva poche cose Da fare qua Capito Che si è preso il C4 In faccia Che ha pushato per primo Però se uno inizia a fightare Non stai così fermo Che ti sei piastrato Intercensual C'ha la giacca di due piastre C'ha pure il bombarda Cioè qua si può buttare L'antibunker Bombarda Già che butti il bombarda Vuol dire che I tuoi due teammates Possono fare tutto quello che vogliono Perché non farai danni su di loro Cioè tu Butti il bombarda Ti smoke Becchi un po' Vedi da come volate il bombarda Rimane un pochino fuori Ma il bombarda In questa casa Distrugge tutto Ok Cioè quelli scappano Non possono rimanere qua Cioè non si possono fidare A rimanere negli angolini Anche se stanno negli angolini Rischiano di essere craccati E tutto Cioè bombarda Intercensual qua Antibunker di pelle Sono zero rischio Letteramente lo butti E pushi full in Cioè non stanno giocando Per chi bici a zero di vita L'avversario Hanno giocato malissimo Perché Craccando due persone Non hanno fatto nulla Cioè non so Cioè quelli sono rimasti dentro Non lo so perché Cioè anche qua Kibitz Capito È andato fuori A fightare con un altro Perché è uscito dall'altra parte Cioè Kibitz qua Non era assieme a pelle E pelle Intercensual non era Assieme a Kibitz Cioè hanno giocato divisi Perché uno fight Gli altri due Entrano nella casa Uno fight Gli altri due Cercono di confermare La kill Cioè qua Intercensual noccato Bisogna aiutare i teammates Cioè la priorità È aiutare i teammates Qua Butti la smoke Butti l'antibunker Rimane Tenere la posizione Per far restare Il tuo teammate Capito? Cioè già che Li butti La smoke Sul corpo del teammate Li butti il C4 Magari lo Confermano Ti pushono Esplode il C4 Cioè bisogna giocare Per questo rest qua Quindi smoke Prima cosa Smoke Ricarica Distrugge il trophy Smoke Ricarica È un po' andato in panico Qua secondo me Pelle Perché non ha ricaricato Nemmeno l'arma È rimasto senza Senza colpi Per un botto di tempo Qua ha sprecato Un botto di colpi Cercare di Sparare uno Noccato Qua ricarichi O magari vai verso Kibitz fuori Per Per Finire quella kill lì Perché dice che è Will Cioè vedi Questi colpi qua Sono andati per Confermare questo E poi Non ricarica Vedo No erano 3v3 qua Poi questo È smirato tutto Perché quello È da make up Ma manco L'ha lockato Se no qua Moriva Pelle Già A prescindere Già moriva qua Qua loro Hanno givappato Cioè loro sono 2v1 E hanno givappato Full Che no Cioè le avversarie Hanno giocato Molto peggio Perché qua Gli avversarie L'unica cosa Che devono fare È continuare a correre E trovare Questo qua L'ultimo Perché se kill luna Queste hanno vinto Lo spot Per sessere Chi vince il gulag Scendono E recuperano la parte E ci sta L'importante Non sbagliare Allo start Lo start del fight Non ho capito Bene da questo fight Chi colla cosa E chi segue Chi Non hanno dei ruoli Diciamo Nel team Cioè giocano Basta Hanno colato In tre Perché Kibets Quando comunica Dice Pelle Andiamo di qua Prendiamo questo spot Pelle Dice di sì E poi vanno lì E poi Kibets Inizia a fightare Nessuno lo aiuta Intercensal Dice Andiamo dentro Andiamo dentro Quindi alla fine Sono tutte e tre Che decidono Cosa fare Alla fine Il GL In questo team È Intercensal Cioè da quel fight Che ho visto Perché lui decide Andiamo dentro Qua Kibets Sta collando Io non sono d'accordo Con sta posizione Ponti e girare a destra Ti conviene molto Di più che girare a sinistra A sinistra c'è un ponte Che uno stanno fightando Due è più lontano Tre è più open Quindi da giocare assieme Qua in tre Prendere le picche E crossare assieme Qua non fightare Cioè non ha senso Fettare con questi Fuori safe Cioè è meglio rischiare A crossare qua Sotto il ponte Vedi quelle già Stanno crossando Prima ti muovi Prima vai in safe Meglio è Però cosa succede Cosa succede di solito Perché questi Preziosi secondi 20-30 secondi Che ci sono La gente Sta ferma Fuori safe Ad aspettare gli altri Invece di crossare Quindi Succede che Arrivi a fightare Con la gente Fuori safe Tutti e tre Splittate Non stanno giocando Insieme Non stanno giocando Come team Qua assolutamente Nessuno parla Ognuno vuole Sopravvivere Invece di vincere E Kibets Qua riesce a entrare in safe Come indistrutto L'USM letteralmente Sta correndo In open Sul ponte A distruggerlo Questo perché è successo Tutto questo Perché inizialmente Da quello che vi ho detto io Che non mi piace Questo spot qua A fare questa roba qua Guarda C'è una casa C'è una casa Ok E fuori safe Ha senso andare ancora più Fuori safe Per poi andare in acqua Per poi andare dall'altra parte O ha senso muoverci Meglio verso La safe Non era male giocare qua Così chiudevi Quelle dalle Non ti facevi pushare Da quelle del treno Capita Questo visuale qua Ok dietro Questo visuale qua Ti fa capire Che non c'è nessuno qua Cosa vuol dire Quando non c'è nessuno Vuol dire anche Che la puoi sfruttare Questa zona qua Per girarti E dare le spalle Perché nessuno ti sparerà Se non c'è nessuno Da quella parte Vuol dire che puoi sfruttarla Girarti di spalle Letteramente quasi in open E fightare un team A conto a te A destra tua O puoi andare a crossare lì Sono due le cose Però il cross qua Non ha senso Perché è fuori safe Sta arrivando la safe 28 secondi E shifta Dall'altra parte Qua stanno fightando Le building Non ha senso andare lì Ok Ha senso sfruttare Questo spazio Libero O di gente O di gente che si sta Fightando tra di loro Per dare le spalle E fightare un altro team Tipo O crossare Sono due le cose Sono giuste da fare Tutte queste cose Che si fanno in late game Perché late game Dura pochissimo Il tempo E Il posizionamento E il tempo È la cosa più importante In late game Se tu C'hai il posizionamento C'è più tempo Di fare le cose Se tu non hai posizionamento C'è meno tempo Di fare le cose Ok Quindi Ti devi concentrare Sul Come piccare Chi fightare Come muoverti E come entrare in safe Perché se sei fuori safe Sei fottuto Non puoi vincere Se stai fuori safe In quinta safe Con 50 persone in vita Capito? Anche qua Non l'hanno aiutato A chi pensia Cioè qua Per esempio Quanti secondi Quanti secondi Sono passati Dalla call da me Da me 0.5 Ecco qua 0.25 Vediamo A me A te A te che non ho arma Un'altra qua Non ho armi buone raga C'è capito No vabbè Pelle stava lottando Lì sul tetto Intercessor Non aveva proprio Angolo Ma c'è Bisogna buttarsi subito Aveva un full team Su di lui comunque Ha preso il contratto E aveva un full team Su di lui Quando si gioca per la corona Io non lascerei uno Da solo Prendere la corona Rimane in low ground Rischiosa Questa giocata Però non puoi provvedere Giocare fisico Con le stesse persone Conosce molto meglio Il team Sì E la cosa più importante Ancora Fai gli errori Insieme a loro Capito? Fai gli errori Insieme a loro E si fixano Si fixano In automatico Insieme Anche giocando Alcuni Alcuni si fixano In automatico Alcuni si fixano Solo analizzando I stessi mod Vedendo come giocano Gli altri Vedendo In terza persona Di come giocano loro Pelle qua doveva fightare Non doveva fare il loadout Chi mi ha zeccolato bene Perché aveva le armi Pelle Capito? Cioè sta pensando Più a load Che se la pushano Capito? Non ci perdi timing Così eh Nessuno guardava lo scavalco Uno che chiede i soldi Per fare il loadout Secondo me Devo guardare Pelle Insieme a Intercessor Dello scavalco Si inizia il gioco Del recupero Penso Palazione Ok Recuperate Vediamo Non è male È un peccato Lì non Non guardare lo scavalco E semplicemente Lasciare i soldi Perché lo sai che Ghibis non c'ha le armi Anche bombarda sotto i piedi Da comprare Era bene Perché le fermavi tantissimo Quelle che pushavano Vediamo qua il cross Quello fanno No no Quello di peccato di rosso E vogliamo vedere dove ruotare Giusto raga adesso Dai dobbiamo giocarci Sto palazzo Fa schifo? Che gente l'hai? Eh lo so Lo so Vuoi andare adesso? Sì vorrei andare Sì Qua c'è gente? Sì C4 ragazzi C4 ragazzi La bombarda È incredibile Non ho capito chi decide Cioè Come decidono a fare una cosa Che uno mette il ping L'altro chiede Se c'è gente L'altro L'altro cross E poi l'altro E viene chiesto Se vuoi andare là L'altro dice sì Voglio andare là Mille modi per crossare Le smog Buttate un po' Un po' di merda Bombarda non si usa Poi io non entrerei mai Dentro la casa così Invece di fightare questi Che sai che c'è la gente lì Io fighterei quelli prossimi Se c'è la gente Nella prossima Perché magari non c'è nessuno Più avanti Crossi qua vicino E butti bombarda Quella a sinistra Crossi da sinistra Cioè Ario no Secondo me Mille modi Sai che c'è gente qua Che ti spara Cioè esci qua dall'angolo Butti bombarda Quella a sinistra E non ti guardano più L'angolo a sinistra Full libero Puoi andare A fare tutto quello che vuoi Alla parte sinistra Manco entrare nella casa Cioè puoi crossare Nelle prossime case Ancora 10 metri di cross Tipo qua Dove è passato In 3 sensual Dopo Potevano passare in 3 Non è male Questo drop Di 1.3 Pula questo Pula questo Pula Ho cooperato qua Ho loadout pure Saldi E' bello facile Sto gioco Perché Il timing De loadout E' sempre lo stesso Il loadout Non è per tutta la mappa Come su PUBG Per esempio Cioè non scende il drop Alla mappa Che tutti lo vedono Tutti ci vanno lì A prenderla Capito C'è un drop Su un shop Saldi Sempre alla terza safe Secondo me Se ti prepari Per i saldi Alla terza safe Usi tipo Un triplo Al 100% Delle volte E poi Ristart Tutti che sono In questa lobby Se la sono meritata Quindi perché Gli altri team Non riescono a fare Lo stesso E vincere Penso sempre Per le micro decisioni Dei movimenti Importanti No Non sono Non sono Delle micro decisioni Non sono Delle micro Movimenti Tornestemente Ci sono Degli errori Giganteschi Tipo Cioè nessuno Ha un obiettivo Della partita Però Molti Fanno 5 start Diversi 5 land Diversi In 5 partite In molti Non comunicano bene In molti Non hanno Dei ruoli Nel team In molti Non hanno Dei obiettivi Cioè Andiamo qua Per fare cosa Per fare L'antenna Andiamo qua Per con 20k Durante I saldi Per fare cosa Cioè Ci splittiamo Per fare cosa Pusciamo Per fare cosa Facciamo questo contratto Per fare cosa Facciamo dei contratti Cioè il 90% Dei team Che c'erano In queste lobby Non avevano Obiettivo Non pingavano Un contratto Dicendo Andiamo a fare Questo contratto Per avere Wow Per poi pushare Per avere Punti Per poi avere Le posizioni Capito Altri Battle Royale Competitivi Raga Cioè la gente Inza prima Il posizionamento E poi le kill E così si vince E così bisogna giocare Però Siamo ancora molto indietro Cioè qua Qua fightiamo Per cosa Perché abbiamo fatto Il knock Ok Ma il knock In generale Cioè Per warzone player Vuol dire push Al 100% Io sono d'accordo Però se il knock È vicino A tutte e tre Ok Se chi Benza dall'altra parte Della mappa Voi siete in due Fai un knock Vuol dire che stai pushando 2v2 Vuoi davvero rischiare Quel 2v2 Sapendo che il tuo teammate Nell'altra parte della mappa Vale la pena Domanda Sì Per la maggior parte Di volte sì Però Se sei in una stazione Dove non hai piastre Dove il tuo teammate Non è vicino Dove avete 20k Dove siete alla terza save Con 80 in vita Conviene pushare Questi in 2v2 Anche se è knockato Se si resta siete 3v2 Se vincete questo fight C'è un rischio altissimo Che arriverà un altro team Perché sono 80 player Nella lobby Che tutti sanno guardare I puntini rossi Sulla mappa In più c'è il wav Dell'avversario Vedete questo bordo Della minimap rosso Vuol dire che c'è il wav Vuol dire che sei spottato Non ci vuole Non ci vuole molto Ad arrivare ai livelli di beef Come gameplay Vendo minimo di tattica Essendo un team Che gioca da tanto Cioè se c'è un team Che gioca da tanto Sono tutte e tre forti Se comunicazione va bene Allo start Se da solo Nessuno ti contesta I primi due minuti Sei libero di fare Tutto quel cazzo Che vuoi Ti fai il loadout Per primo Ti fai i contratti Ti fai i controbandiere Prendi il veicolo Prendi il palloncino C'hai sempre triplo Costante C'è una partita Di beef la shift E ragazzi che hanno Il triplo Per tutta la partita Cioè se c'hai tutte Quelle risorse lì E giochi per le risorse Poi il fightare È facile Non è difficile Ad arrivare A fare Molti punti In queste private Se giochi Con il tuo team Da tanto tempo Se comunichi bene Se avete uno start E esperienza all'inizio Se avete uno Che decide cosa fare E se giocate Prima per il posizionamento Poi per gli obiettivi E poi per le kill Secondo me La risorsa più importante Del gioco In questo gioco qua È il tempo Se pelle da 2 ore 2 minuti 22 secondi Da questo momento qua Poteva fare tutto Poteva scappare Per trovare una show Per prendersi le piastre Per prepararsi Per vessare Kibitz Potevano andare Insieme Con InterSensal Da qualche parte Per fare un wow E rischiare Di fare le giocate Che poi ti permettono Di avere un posizionamento Migliore Avere Wow Avere dei vantaggi Da 2 minuti 0-2-24 Qui Sono rimasti qui A fare niente A guardare i muri A slidare sulle scale A aprire la map Non muoversi È passato un minuto E mezzo Poi decidere a crossare Capito? Cioè in questo minuto e mezzo Tu arrivi Tu arrivi dove cazzo vuoi Capito? Cioè lo so che è rischioso Perché esci dalla casa Qua sarà 100% fuori safe Lo sai già Qui 58 persone in vita Sono quasi 60 in vita Quinta safe Sei fuori safe Io qua non mi gioco il resto Sono 60 persone Non ho uno show comodo Per andare a restare Non gioco il resto Gioco il posizionamento Gioco in due Per clacciarla in due Gioco in due Per magari tradare Magari è possibile Vincere un fight 2v3 Sì è possibile Perché non giocarsi Questa possibilità? Perché uno con le armi Con i soldi Con self rest E che nessuno sa di lui Dovrebbe andare allo shop A farsi spottare Per restare uno Con la pistola Che poi scende Fa spottare il suo team E non può nemmeno fightare Che senso ha Restare uno Quando mancano 20 team E devi entrare in safe Con uno shop scomodo Capito? Giochiamo in due Non possiamo restare Purtroppo troppo rischioso Restare Cioè è meno rischioso Crossare in Crossare in safe Smoccare Avete tutte le risorse Posso giocare il lead game Aspettare il lead game E giocare in due Fino alla fine Fa schifo sta position Raga fa schifo Raga mi sa che non c'è nessuna a sinistra Non so cosa fare Ho sentito una smocca Ho sentito una smocca Non era là l'inter Non era là Non so perché hanno ruotato qua a sinistra Ha senso andare qua raga Prova dietro a muro Prova il rest Giocatemi in due La cassa Ho di inter Ho di inter Ho di smocca Ho di smocca Ho di smocca È l'ultima Oh mio dio Oh mio dio Morto Basta Rimangono qua Che tutti li spareranno Non potrà più crossare Da nessuna parte E morirà qua bro Basta Finita Staccato uno C'è chi pensa è sceso da loro Con la pistola Basta Finita qua Ma chiudi sta parte gioco Ci arrivereanno in da dietro Secondo me Lì potevano crossare in safe In mezza proprio Raga mi servono Pelle due plate Ce l'hai? Qua in tv La sono in torno a C4 La sono in torno a C4 Ma ragazzi La gente che non calcola E che c'è una bella Grossa differenza Tra la quarta safe E la quinta safe E poi tra la quinta E la sesta E poi ancora più grossa Tra la sesta E la sesta È molto più difficile Fare il cross Dalla sesta Alla settima Che dalla quinta Alla sesta Capito? Cioè prima lo fai il cross Meno probabile Di avere i team A bordo Con te Assieme a te Di fianco Ora questo cross qua È impossibile È dura anche meno Vero? Esatto Maria Dura anche meno Importantissimo Due volte di meno Quindi ora questo cross qua È impossibile Cioè con le risorse che c'hanno Niente maschere Niente informazioni sui nemici Forse con un triplo Riesci a crossare Perché sai esattamente Dove stanno La maschera Che puoi girare fuori safe Ma senza di questo no Un colpo Eh Ha fatto un altro team Troppi team Bombarda Cluster Guarda cosa succede Appena inizio a fettare Guarda A bordo A bordo safe In sesta safe Con 40 persone Guarda cosa succede Hai no Puoi anche vincere Riva Anti bunker Un colpo Eh Bombarda C4 Tu con Andy e Zanks Avete fatto malissimo Qualcosa Cosa avete sbagliato Per fare così male In realtà Alle qualifiche europee Siamo arrivati top 7 Noi con Andy e Zanks Le finali Le finale Sono cambiate totalmente Perché Perché l'allenamento E le qualifiche Dove siamo arrivati top 7 Il regolamento Delle private Erano Della privata Nelle finali Alle finali Il regolamento Era come se fosse pubblica Quindi i contratti Della pubblica Eh Bunker della pubblica Che ti dava il triplo Le macchine della pubblica Spawn delle macchine Il loot Della pubblica Completamente diverso Il loadout Che scendeva Dopo un minuto Non dopo tre minuti Noi eravamo bravi Lì anche in finale Che io scendevo Alla città in basso Prendevo Corona Si faceva la corona In un minuto Si faceva la corona Prendevo l'elicottero Si faceva anche un loadout Lì Facciamo un loadout Iniziamo a uscire la gente Ok La gente come giocava Giocava come cagasotto Alcuni Cioè la maggior parte della lobby Poi non dico quelli Forti forti Che hanno fatto tanti punti Ma alcuni Sapevano di sta cosa Che si è cambiata Perché era totalmente E un minuto Non facevano un cazzo Scendevano in una casetta Di merda Per prendere due piastre Aspettano 30 secondi Li scende l'elicottero Si prendono le armi Si prendevano Automaton Da ghostati E basta Sull'uovo non le vedevi Si prendevano l'arma subito E quindi Cioè Era totalmente diverso Dopo un minuto Dall'inizio di partita Tutti avevano l'elicottero Tutti giocavano col ghost Non potevi pusharli E nessuno Sapeva giocare per le resource Per fare contratto Per muoversi per la mappa Nessuno Semplicemente Giocavano come se fosse Una cosa random E questo ci ha cambiato Tantissimo Perché io invece Come in privata Facevo il contratto Avevo wow Pushavo la gente Che magari Non sa fare queste cose Non sa gestirle E non fa il loadout Quindi non c'ha ghost Facevo le delle kill All'inizio Mi prendevo un veicolo Mi riposizionavo Facevo la stessa cosa Come aveva tutto Qua invece Non potevi già farlo Il fatto di incontrare la fronte Aumenta la probabilità Di passare L'anno prossimo Allora Inquadrare la fronte Se non sbaglio Ti aggiunge tipo 23 o 24% Di aim assist in più Lo faceva anche Swag questo trick qua A tempi di Verdansk Quindi a te A te non aiuterebbe Stormy Anche se metti Tutta la testa pelata In webcam Non ti aiuterebbe Perché sei DMK Capito Aiuta solo Discusamente A paddare Cracked Con chi ti vedresti In team per l'SQ Quella domanda Ma dici di quelli Che sono rimasti Tipo Che devono Che devono rientrare O con questi O con il team Di pelle O con Diablo Inferno A beer Uno dei tre Va a casa Guarda la stream Si fa la sub Mentre mi guarda E io gioco Al posto suo E magari forse Abbiamo chance Di entrare In top 4 Tipo queste posizioni Qua a bordo Mappa A sparare Alla gente A caso Difficile poi Da uscire da qua Io giocherei largo Qua come gioco Infernal Vedi Giocherei un po' Più largo Qua Ma con qualsiasi Team italiano Ovviamente Con le condizioni Che mi ascoltano E si fidano Perché molti In Italia Manco Manco Mi considerano Come un player Fanno bene Sono una pippa Non ho vinto un cazzo Cosa succederà ora La safe è shiftata Mancano 30 secondi Arriva il gas Cosa succederà Aspetteranno qui Per 30 secondi A guardare il nulla Cosa succederà Spareranno la gente Da fuori safe In safe Capito Cosa succederà Rimarranno fuori safe Perché stanno qua 30 secondi A fare una minchia Un cazzo Kyborg già li urlava In tre orecchie Grossate Raga Sti cazzi per due punti Sti cazzi per due track Ma manco si fanno le kill Così eh Manco si fa Ce lo sappiamo già Non si fanno queste kill La gente appena viene sparata Si nasconde Appena viene sparata Butta la smoke Appena Appena viene sparata Ti butta addosso il bombardo Ce lo sappiamo A livello del lobby Non sono questi i momenti Dove fai le kill eh I momenti che fai le kill Sparando la casa Alla gente a distanza È quando loro crossano Verso di te Non quando loro Sono nella stessa direzione tua Nella stessa situazione tua Capito Crossi Vai a fightare Quella al giallo Che sono davanti a te E lo sai che c'è un team lì O lo fai ora O lo fai tra 20 secondi Il problema è che tra 20 secondi Ci saranno altri 4-5 team Che ti spareranno Perché sarà l'ultimo in safe Già questi 40 secondi persi Anzi 50 Stanno arrivando i 50 secondi persi Per me in una casa che Non lo so Fuori safe E in più c'è un open Incredibile da crossare Già questi secondi qua Per me sono tipo L'errore più grosso Che puoi fare In battle royale bro Rimani fuori safe Solo nel caso in cui C'è un fight Che ti contestano Che ti fightano Che ti bombardano Che ti cecchinano Che ti crackano Che ti chiudono Capito E lì perdi tempo Ma se sei tranquillo Tutte e tre C'hanno le armi C'hai una posizione Capito Se stai fermo Sei come fk Bro Cioè letteralmente Appoggi il pad Vai in bagno Ti fai una seghetta Torni tra un minuto E fai il cross La stessa identica cosa Che stare fermo Guardare il nulla Sparare la gente a casa Craccarla fuori safe Almeno provi a fai dare Quelli in safe Davanti a te Che ti chiuderanno Quelli magari li fai un knock C'è il timing Li push Un gel così Con un lavoro così Per molti team Potrebbe essere alla svolta Sì Avrebbero molte più chance Di arrivare nel game Di fare più punti Di qualificarsi Semplicemente facendo queste robe Però vedi Cioè io godo dentro Perché tanto c'è Bro Cioè arrivo lì Io Al posto loro Sarei già lì in safe A chiudere gli altri team Che dovevano crossare O almeno andare ancora più avanti Giocarmi il late game Non posso giocarmi Il fuori safe Con tutte le risorse L'unica L'unica Giustificazione Per un team O un player Di rimanere in una situazione Così di merda ora Perché un minuto Un minuto fa Erano posizionati benissimo Erano in una situazione Controllo 100% Totalmente Nel chill Ora L'unica giustifica Diciamo Le uniche giustificazioni Che o rimane da solo Non c'è un cazzo E stanno chiedendo O stai fightando Stai perdendo tanto tempo O ti stanno Chiudendo Diciamo E non riesci a crossare Quindi devi Devi fare Devi buttare le smoke a destra Devi crossare Sei in una situazione Letteramente Di merda E ti giustifica Il fatto Che sei fuori Safe in una casa Capito Se non c'è tutto questo E tu rimani comunque Per 50 secondi Per quasi un minuto A fare nulla Qualpa tua Cioè Qua arriva il panico Di solito Ai team italiani Arriva il panico Ognuno inizia a spotare I nemici A cross the map Lì c'è un team Lenci un team Lenci un team A sinistra c'è un team Davanti c'è un team Spariamo questo Spariamo questo Ma l'unica cosa che devi fare Correre bro Basta Qui cosa succede? Che sei forzato ora Ora sei forzato Di andare solo In una direzione Ora sei forzato C'è il cazzo Non puoi fare più niente E in più Si accumulano più team A bordo Si accumulano più team Sono più vicini E quindi C'hanno più team Angoli su di te Più player Angoli su di te Molto più facile Per loro di vederti Che stai qui Se non saranno così forti Le smoke Nel prossimo warzone Raga Questi cross qua Non li Non li fanno Sono già morti Le smoke Ti permettono di Spam delle smoke Ti permettono di fare Qualsisi cross bro E' ancora più facile Giocare a questo battle royale Perché in late game Puoi fare molte più cose Con le smoke Spammate così Ora arriva Il panico Numero 2 Tre persone che Collano a cosa fare Allora Domanda alla chat Vi piace questa posizione? Ci sta? Ci sta a chillare qua? O si può fare altro? Sdraiati In open totale Possono anche killare Quelle a destra Perché quelle a destra Sono messe ancora Peggi di loro Cioè quelli C'hanno ancora Cioè quelli sono ancora Fuori gas bro Quelli sono Questi almeno sono Tre secondi avanti di loro Capito? Quelli possono essere Free kill Solo perché sono In posizione ancora Peggio di questo Di questo bro Perché c'hanno il gas Adosso letteralmente Non al culo Adosso proprio Davanti a loro Capito? E' rimasto pure uno Da solo Perché stavano Fightando tra di loro Allora Posizione full di merda Qua è solo culo bro Che nessuno ti sta sparando Perché questo team a destra Stavano fightando Questi due team davanti Alla macchina Stanno fightando Ci sono due Minimo due team lì Che stanno fightando Quindi Nessuno ti caga Quando nessuno ti caga Cosa bisogna fare? Come prima Uguale La stessa cosa Quando nessuno ti caga Rimani fermo In una casa Fuori safe Buona mappa Giusto? O crossi O prendi un head glitch O prendi una posizione migliore Nessuno ti dà fastidio bro 50 persone in vita Nessuno da questa parte Ti dà fastidio Io voglio vedere Che cazzo è successo qua Cioè non è meglio Stare dietro i due Allo doubt In head glitch Raga Domanda Allora qua Succede la stessa cosa Ragazzi Ora ancora peggio Perché ogni safe Peggiora la situazione Più vai avanti Più peggiora la situazione Ragazzi Perché Qua cosa succede raga Che Qua c'è non tantissima fortuna Te lo giuro Nessuno li spara Dalla montagna a sinistra Nessuno li spara Da davanti a destra Non c'è nessuno Però cosa succede qua Che ti fa vedere La prossima safe E mancano 30 secondi ora Non c'è più un minuto Non c'è più un minuto C'è solo 30 secondi Quindi è ancora meno tempo Per rilassare E si cumula ancora Più team a vederti a bordo E ci sono 46 ancora in vita 40 scusate 40 persone in vita Qua Qua la montagna Crossiamo? Ho sentito crossiamo? No way Vai Traccato Ah no Cazzo Non so quanti sono questi Trenno 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 Ho flashato la call Crossiamo raga Pushare dove? Si resterà per il tempo A casa? No Non mi direi che stai pushando la casa bro Stavano per pushare la casa bro Con tutti gli headgees che ci sono qua Stavano per davvero crossare Per pushare la casa bro Per il no Destro Ma perché non prendono sta cazzo di posizioni qua bro Non sto capendo bro Cioè perché non stanno qui? Raga dovremmo andare sotto qua Quello sarà da solo perché dopo tutti i fight che hanno fatto da quella parte della mappa Ha restato uno Quello è da solo bro Cioè Quello lì letteralmente è da solo Quello ha fatto 3 fight in un minuto bro Mentre questi erano sdraiati Io chiuderei quello a destra che ha fightato eh Te lo giuro Te lo giuro Cioè full Quello a destra che ha fightato lo chiudi Una smoke lo push in 3 Però beh ci sta Stare in open meglio Ci sta Si sopravvivi e non si gioca per vincere Si gioca per sopravvivere Allora domanda in questo momento Che io ho detto che è meglio pushare quello a destra Perché intendo questo? Perché sappiamo che c'è questo qua Ok sappiamo che c'è piccato Sappiamo che c'è un team dietro a sinistra Questo che lo vediamo C'è info su di lui Che a parte che nessuno tranne il beer qua guardava Intanto lui stava lutando Immagina questo se piccava veramente pronto O piccavano in due per sparare Diablo era già morto Infernal dietro era già morto Beer non può sparare perché Sta giocando Lego Sta giocando Tetris Con le granate fumogeni Si sta caricando di granate fumogeni Questo Fuma più su Warzone Che nella vita reale Cioè se questi piccavano in due in tre Ragazzi Morivano qua Tutte e tre Questo è un coglione Perché fa il salto E guarda non so dove Il nulla nel void Sta guardando dall'altra parte Invece di guardarsi di qua Cioè questo qui Si faceva a minimo Una kill bro Cioè non ha manco sparato Cioè questo È girato di spalle Nella parte più pericolosa Per lui della mappa Bro c'è capito Perché ha visto un end glitch bro Cioè questo Ha lasciato tutto Il mondo Cioè letteralmente 45% Della mappa Ha dato le spalle È solo perché Ha visto un end glitch qua bro Da prendere Capito Cioè non so chi è quel player lì Raga ma Togliete le Warzone Dalle mani bro Cioè te lo giuro Cioè Sta pure saltellando Ora bisogna pusharlo Perché Hai sperato Perché sai che quello a destra C'è info su di lui Quasi esatta Info Uno delle due Parti devi pushare Perché Qua sei in una situazione Troppo in open Cioè Non ci sono abbastanza Eddys buoni Per rimanere qua Ancora per gli altri 30 secondi Ok Perché arriva il gas Qua si vede dal life ping Che questo Ha smoccato È andato a sinistra In basso Quindi La chance perfetta Di pushare tutte e tre Da una parte E scegliere O fightare il treno Tutte e tre O fightare a destra Perché non puoi rimanere qua In open Troppo open Ok E non puoi rimanere In mezzo a due team Perché Ora La smoke va via Si stringe La safe Inizia a fightare un team Ti spara l'altro da dietro Inizia a fightare un altro team Ti spara un altro da dietro Questa posizione qua Beer qua Ha visto benissimo Che questo player qua Era full chill Quindi vuol dire Che bisogna prendere la sua posizione Perché lui si sentiva bene lì Non li sparava tranne Beer Quindi se lui va di là Si sentiranno tutti e tre nel cielo Ok È un rischio Andare a pushare Ma è un rischio Diciamo Giustificato Che ti prendi la sua posizione Dove c'è l'head glitch Dove c'è la safe Quasi Però c'è un cover lì C'è un camion Un container C'è un trattore qua Quindi da quella posizione lì Puoi avvicinarti Molto meglio in mezzo alla safe Che da qui in mezzo alla safe Capito? Da qua ci piccano troppo lì Qua una smoke Qua una smoke E pushi quello Capito? C'è loro giocano per sopravvivere Per quella Non decisono a chi pushare Capito? C'hanno tutte e tre le armi Sono tutte e tre banger Sono tutte e tre a sparare bro Andate Prendi lo spot bro Distruggilo quello Cioè in più c'è l'info Che questi hanno fightato prima E ha arrestato Vuol dire che Come minimo Come minimo sono in due Come massimo È uno Capito? Cioè è uno È da solo bro Ha fightato un altro team Per tutto il tempo E poi è arrestato Vuol dire che Poi è da solo O sono in due Massimo È un flyer Smoke Treno E pushi Quelle bro Tornare indietro non ha senso Perché ti rimetti Nella posizione dove sei In mezzo due team Qua il team forti Bisogna prendere Deve prendere la posizione La decisione di pushare Chiunque Quella a sinistra Magari dici Raga pusciamo quella di sinistra Perché quella a destra Non riusciamo a pushare Perché magari sono in tre Ma io qua Ve l'ho detto anche prima Un trenta secondi prima Di quel momento Di questo momento qua E bisogna pushare quella a destra Perché c'ha C'ha una posizione E sai che sono in meno Capito? Cioè ti conviene pusharli Perché In late game Non devi sopravvivere Se sei in tre con le armi In late game In tre con le armi Devi fightare E crossare Prendere la posizione Se sei da solo Che sei dal gulag E tutto Ti metto in un cispuglio E ti giochi le posizioni O se siete in due Vi state cagando addosso Di fightare Capito? Però se siete in tre Giocate a sto gioco Da quattro anni C'avete le armi C'avete le smoke C'hanno tutto Maschere Tutte aree E non fighti Ti sdrai in mezzo Allora è colpa tua Non puoi dare colpa A nient'altro Che al tuo team Sì Otto smoke aveva Arrivato il cluster Proviamo il treno Ora va il panico Capito? C'è le cola a casa Rimaniamo qua C'è l'attacco al mortaio Arriva anche All'antibunker Hittiamo il treno L'altro L'altro sta piccando Full a destra Non so perché Sta piccando Diablo qua Che lo vedono Tutta la mappa Se picca qua A destra Dalle Full Cioè lo vedono tutti bro Cioè li sparano dietro Ecco qua Lo stesso bro Lo sterzo Bastardo di prima Che è piccato Nel momento giusto bro Guardalo In più Quello a destra Vince la partita Raga Oh mio dio Vero Mamma mia Sono il migliore Mamma mia Sono letteralmente Il migliore Mi sono ricordato ora Che ha vinto la partita Con la destra Minchia Warzy Zero audio Ressa Ressa Bravo Vedi O pusciavano in tre Prima il treno Vincevano il fight O pusciavano a destra Vincevano il fight Secondo me Entrambi i fight Erano validi Con il treno Magari c'è più vantaggio Perché C'è il treno C'è il cover Lo puoi muovere Puoi salire sopra Non lo so Ok Ma entrambi Entrambe le cose Erano giuste da fare Usciare in mezzo al nulla La casa No Rimanere fermo In open Streat No Amma box M***a Qua ti riempi Tutte le cose Qua dovevano vincere la loro Queste condizioni che ci hanno loro Minimo top 2 Dovano giocare più aggressivi Quando il team è in tre Con tutte le armi Tutto Devono giocare aggressivi Capito? Cioè perché È l'unica giocata Che puoi fare In open Che è successo qua? Allora qui Importantissimo Wow Però Nessuno sta guardando il team a destra In open bro Nessuno Li stanno pushando letteralmente in open A destra B era visto così tanti puntini Sulla minimap Che è impazzito Ha iniziato a guardare i muri A mirare i muri Attraverso i camion Attraverso le finestre Attraverso i muri Sta guardando da qualche parte Per avere quella pick Ma in realtà L'unica pick che puoi avere È su quella destra Che ti stanno pushando Poi ci stava anche La call di infernal Di mandare il treno Ancora più avanti Un pochino Perché così Chiudi di più La parte sinistra E ti giochi solo La parte destra Pulisci la parte destra E c'hai full il treno Non si sono concentrati Sui nemici Che dovevano concentrarsi Onestamente Mi gasa di più Fare il coaching Per un team O per due Tre persone Perché Letteramente Li apro Gli occhi Molto più volte Cioè capito Cioè a me Mi dà soddisfazione Quando faccio coaching E gli dico Gli spiego a uno Una cosa Che gli cambia Totalmente Il modo di giocare E letteramente Porta dei risultati Che non portava prima Far capire Un argomento Una dinamica Alla persona Cambia totalmente Tutto Cioè Farlo a un team È tipo Super godirioso Te lo giuro Dall'esperienza Vi dico Che la maggior parte Della gente Fa gli stessi errori Per due anni E non se ne accorge Di fare quell'errore Cioè Non se ne accorge E non capisce Che per migliorare Devi tagliare E eliminare I top 3 I top 5 errori Che fai E basta Perché Diventare più forti Vuol dire Fightare con te stesso Altrimenti devi Fightare contro I tuoi errori Che fai Se elimini I tuoi top 3 Top 5 errori Che fai Più spesso Di tutti gli altri Hai già raddoppiato I risultati Mamma mia Questo cross Raga Questo cross Questo cross Ah ma non è quel Ah ma è quel game Lì dove hanno fatto Il triplo E hanno crossato In open Oh no Ma davvero Ah sì Mi ricordo Oh mio dio Oh mio dio Vero Mi ricordo qua E ho switchato Lo visuale su di loro Vero Qua vanno più avanti Fanno uno show portatile Se non sbaglio Fanno un triplo Decidono di crossare Di andare a fightare Un team fuori safe E muoiono Con il triplo Vero Stavo urlando Di Che dovevano andare A posizionarsi bene Cioè qua hanno giocato Benissimo Hanno tradato Bro poi Vanno fuori safe Fightano quelli Fanno un triplo E poi decidono Di fightare Con gli altri fuori safe Invece a posizionarsi Ti so Io tilto Quando vedo ste cose Non si possono vedere Con il triplo In late game Cosa faresti tu Con il triplo Tu Un po' che mi ascolti Ora Cosa faresti Si può andare a killare Questi perché Da come stanno guardando Da come sono posizionati Quelli correranno Full in open Magari li spari Due tre colpi Ecco ci sparano da lì Ecco ora Ora Guardiamo la mappa Guardiamolo bene la mappa Con il triplo A parte che Deer non sta a prendere La mappa Non so perché Si può Si può provare A chitare Queste sinistra O ormai stanno andando Troppo via O ormai Terzo time Ci sta Non bisogna forzare Sicuramente In questa situazione Non bisogna forzare Andare a riprendere Quelle A rincorrere Perché Tanto buttano due smoke E sei posto C'ho capito Cioè nessuno ti chiude Alla fine C'è solo un team Ghostati in mezzo alla safe Cioè guarda 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 cosa decidono di fare Con il triplo bro C'è altrimenti Legal cheat bro Legal cheat Porta Mi spara l'altro team Sai qual è il problema Ancora più grosso È non capire l'errore È ancora più grosso Perché Non capire l'errore Vuol dire che Si ripeterà Che non hanno capito L'errore qua Perché viene detta La call Che non hanno le smoke Non hanno più smoke Non hanno più Forse un'altra cassa Non hanno entrato Più cassa Ma anche stare qua Dietro Andare dietro un muro Qua Altri smoke Puoi andare a fightare Questi in mezzo Perché no Cioè Su me C'ha più senso Di forzare il fight Qua in mezzo In questa casa Che a queste a bordo Capito La cosa più grosso Che quando non capisci L'errore Vuol dire che Lo rifarai E ci E ci stop Per capire meglio L'errore Bisogna vedere i voti Assieme Assieme a un altro Che magari vi guarda Il vostro fan Un sub Non lo so Quello che vuoi bro Magari ti dà una cosa in più Anche se non sa giocare Magari ti dice Oh ma Tutti sti puntini rossi Perché siete andati lì Dove ci sono quattro puntini rossi Non dove ci sono tre Perché Che